Avevo un po' di complessi perché avevo i denti leggermente fuori posto. Visto che io volevo mettere già l'apparecchio da tanto tempo, non ho potuto per il lavoro perché comunque quello di ferro non si parlava perché poi non sopporterei mai nella mia bocca di avere questi chiodi, queste cose qua, anche se non facessi questo lavoro. La signora Enger ha voluto informazioni riguardanti l'apparecchio invisibile. L'apparecchio invisibile è costituito da una mascherina termostampata, un polimero, che si adatta perfettamente alla superficie dei denti. Il dottor Marco Bazzucchi mi ha regalato un bel sorriso che adesso io regalerò il pubblico italiano.